Si è tenuto questa mattina a Bari, nell'Aulamagna della Corte d'Appello, l'incontro dal titolo L'Avvocato di ieri e di oggi nel ricordo di un maestro. L'iniziativa è stata anche l'occasione per intitolare la Commissione Deontologia dell'Ordine degli Avvocati di Bari al compianto avvocato Michele De Pascale, alla presenza di familiari e di coloro che l'hanno conosciuto. Purtroppo le figure di riferimento stanno venendo sempre meno. Si è ridotto il numero di coloro i quali possono ispirare i comportamenti ideontologicamente ineccepibili per cui figure come quella dell'Avvocato De Pascale restano degli esempi da seguire e il tempo sicuramente non modifica questa situazione. L'idea della Commissione di intitolare la stessa l'Avvocato De Pascale nasce da una necessità che è emersa nel corso del nostro primo incontro, cioè riscoprire quei valori, quelle figure di riferimento, quei maestri per la professione che, come l'Avvocato De Pascale, hanno rappresentato e che ci auguriamo possano rappresentare per i giovani praticanti, e di questo siamo felici della presenza dei ragazzi della scuola forense, in un'ottica di riscoperta di quei valori che un po' purtroppo si sono persi. La ideontologia oggi è diventata una illustre e sconosciuta, anche se il termine è forte, nel senso che ha perso il significato originario. Oggi abbiamo avuto la necessità di istituire un CDD, di codicizzare delle norme che sono delle norme comportamentali rispetto a questioni che anni fa venivano risolte, quelle rare questioni che riguardavano profili deontologici o disciplinari rispetto a problematiche che riguardavano i colleghi, che venivano risolte da illustri avvocati come l'Avvocato De Pascale, semplicemente convocando le parti presso il suo studio e risolvendo in due minuti quella che era probabilmente una controversia che oggi si porterebbe e si trascinerebbe per anni.